Nave De Grazia è l'ultima nave che ha costruito la Guardia Costiera, unità di 33 metri e 64 centimetri, unità ogni tempo SAR, autoraddrizzante ed inaffondabile, unità unica nel suo segmento di tutte le marinerie del mondo. Rappresenta per noi un orgoglio, è un'unità che raggiunge una velocità di crociera di 31 nodi, ha una autonomia di circa 1000 miglia, ha una capacità logistica a bordo molto importante, alloggia le 10 persone di equipaggio, ha dei motori di propulsione di circa 1800 kilowatt, la possibilità di generazione elettrica con due diesel generatori di bordo e dei sistemi di comando e controllo e di comunicazione che le permettono di comunicare anche a grande distanza dalla costa e di assumere il coordinamento di operazione SAR in mare.